Hello! This video is dedicated to the children, to the little kids. Questo video è dedicato ai bambini, ai piccoli bambini. Today I'm going to need the help of two friends. Avrò bisogno dell'aiuto di due amici. Alfred e Guizzo! Alfred is my friend, è il mio amico, and he is a teddy bear, è un orsacchiotto, bear, also teddy bear, perché è un orsacchiotto di pezza. Guizzo is a turtle, è una tartaruga, he is a sea turtle, è una tartaruga marina. So Guizzo, quindi Guizzo, can swim, Guizzo sa nuotare. Swim, nuotare, sea turtle, tartaruga marina, teddy bear, è un orsacchiotto. Can you swim? Tu sai nuotare? Can you swim? I can swim, io so nuotare. They don't know each other, non si conoscono. Quindi gli aiuteremo a presentarsi. Per sapere come si chiama una persona dovete dire What's your name? Name e nome. What's your name? My name is Alfred. Il mio nome è Alfred. And what's your name? My name is Guizzo. My name is Roberta. What's your name? Qual è il tuo nome? Adesso vediamo di capire da dove vengono Guizzo e Alfred. Da quale nazione? Da quale paese? Per dire questa cosa si dice Where are you from? Da dove vieni? Where e dove? Where are you from? Alfred viene dall'Inghilterra. England. And where are you from Guizzo? I am from Australia. Guizzo viene dall'Australia. I am from Italy. Io vengo dall'Italia. Where are you from? England. Or Australia. Or Italy. Or America. Where are you from? So, today we have learned. Oggi abbiamo imparato. What's your name? And where are you from? My name is Roberta. His name is Alfred. And his name is Guizzo. We are... Noi siamo friends. Noi siamo amici. Friends. Amici. Friend. One friend. Un amico. Two friends. Due amici. And all together, tutti insieme, we say, diciamo... All together, we say... Bye! Ciao!